Elena Castellari, Presidente dell'Unione e Sindaco di Montescudo-Montecolombo. Elena, oggi è la termina, questa collaborazione con tutti gli otto comuni della Valconca, eravate insieme a tutti gli anziani, più di 200 anziani. Sì, è un momento molto bello, tutti gli anni siamo in grado di fornire questo servizio, questa cosa secondo me è molto importante, le amministrazioni credono molto in quella che è la fascia d'età matura e anche quest'anno si è conclusa con questa giornata molto bella assieme a amministratori al mare, quindi noi stiamo a ringraziare innanzitutto l'Unione perché effettivamente è l'ente che riesce a realizzare questo tipo di servizio, tutte le altre amministrazioni che comunque condividono questa cosa e poi gli anziani che hanno partecipato, ma anche e soprattutto la WISP che sono sempre molto attenti da questo punto di vista. Ad esempio il prossimo mese partiranno con quelli che sono i corsi per i bambini qui al mare sempre, quindi c'è sempre molta attenzione e per fortuna benvenga sempre questa cosa. Grazie Elena e complimenti. Grazie, grazie mille. Grazie.